Lo scorso weekend 30 aprile 1 maggio nella straordinaria cornice dell'impianto natatorio da 50 metri piscina Nannini di Bella Riva in provincia di Firenze si è svolto il consueto appuntamento meeting di primavera organizzato dalla Fiorenzia nuoto giunto alla undicesima edizione con più di 30 società iscritte provenienti da dieci regioni italiane si sono confrontati in vasca più di 800 atleti il tecnico della nuotatori crotonesi Fonte Leonardo ha partecipato con una piccola ma forte compagine di atleti Ciampai Lenia conquista il terzo posto categoria cadetti nella gara 800 stile libero primo posto categoria cadetti e secondo posto assoluto nella gara dei 1500 stile libero Fonte Lorenzo conquista il terzo posto categoria cadetti nei 400 stile libero terzo posto categoria cadetti nei 1500 stile libero nonostante il carico negli allenamenti i ragazzi hanno saputo distinguersi commenta il tecnico soddisfatto il presidente Fonte che si congratula con gli atleti ed il tecnico